Eccoci qua, eccoci qua in diretta in questo sabato notte 2 dicembre dell'area youtube, il ristorante convento di Lornate di Brescia è lieto di ispitare loro che vengono dalla Val Camonica, dalla provincia di Brescia, loro vengono Artogne e Piancamuno, loro sono la classe 1977, e sentiamo come cantano, sei nell'area Brescia e la Val Camonica è uguale, quando si illumina la potete dire Vado tutto a capo così, spegnerò le luce da cui sparirai, con occhi alti oltre quel tempio, oltre il temporale, c'è una notte lunga e l'infinita finirà ma è la tenerezza che ci fa paura Siamo pronti? Fuori la voce 77 Sei nell'anima E lì ti lascio per sempre Un sveglio immobile Fermo immagine Un segno che non passa mai Vado tutto a capo vedrai quel che resta indietro non è tutto falso e inutile Capirai 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 La strada nei giorni Traccia dentro i bagni E' una strada stretta, stretta E' una strada stretta, stretta E' una strada stretta Quanta tenerezza Non fa più paura Altogli e bianca bule E' una strada stretta E lì ti lascio per sempre E in ogni parte di te mi sento scendere Fra respiro e partito E in ogni parte di te mi sento scendere In questo spazio indifeso Inizia tutto con te Non ci serve un perché Di avvocare del piano Nananananana Nananananana Goccia goccia Nananananana Bianco al fianco Nananananana Nanananana Nananananananana Nananananananana E per dire una applausi! Vira a dire che si è topta sette! Grazie a tutti.